L'Eucaristia è un rendere grazie a Dio. Questa sera noi vogliamo ringraziare il Signore per il cammino che tutta la Chiesa ha fatto sotto la guida di vostra santità e vogliamo dirle dal più intimo del nostro cuore, con grande affetto, commozione e ammirazione. Grazie per averci dato il luminoso esempio di semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Un lavoratore però che ha saputo in ogni momento realizzare ciò che è più importante, portare Dio agli uomini e portare gli uomini a Dio. Grazie. Applausi. 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 Applausi.